Il leader della Lega ha commentato la notizia della ricerca di alloggi per 1200 profughi a Verona. Ma la tassa di successione per i milionari non la vuole aumentare. Mentre difende i ricchi e una società ineguale Salvini pensa di mantenere il consenso del popolo, prendendosela ancora una volta con gli immigrati. E questo per non essere da meno di Giorgia Meloni che sulla inesistente invasione ha costruito parte dei suoi consensi. Con milioni di italiani in grave difficoltà, bloccare ingressi, sbarchi e sprechi è un dovere. Parole di Matteo Salvini leader della Lega commentando la notizia della ricerca di alloggi per 1200 profughi a Verona. Ma quando si tratta di aumentare di pochissimo la tassa di successione per i super ricchi e finanziare le politiche giovanili allora il richiamo della foresta torna. La Lega non lotterà mai contro le diseguaglianze ma solo per favorire gli evasori fiscali. Oggi sono mille i gazebo nelle piazze della Lombardia. La Lega torna in piazza finalmente dal vivo per incontrare i cittadini lombardi dopo un anno difficile. Lo ha spiegato il vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore del Carroccio in Lombardia. Fabrizio Cecchetti. Parlando con i giornalisti nei pressi del gazebo di Via Fosce a Milano. Noi oggi con 120 nostri esponenti eletti nelle istituzioni aggiunto saremo nei gazebo per ascoltare la gente per rispondere alle loro domande. Parleremo di tutto ciò che è stato fatto in regione Lombardia e a livello nazionale. Se finalmente si torna a un barlume di normalità l'OSI deve alla caparbietà dei ministri della Lega e di Matteo Salvini che è riuscito a convincere l'altra parte del governo a riaprire. Con la testa e con la sicurezza. Ma per tornare un attimo alla normalità. Grazie.